Sindaco, dicevamo con il collega D'Alberto, l'emozione anche per voi dopo 15 anni insomma rivivere da sindaci un derby così sentito? Io l'ho vissuto solo da tifoso, quindi per me è la prima volta di viverlo da sindaco, ma ci sono delle intere generazioni, vedo anche mio figlio che ha 10 anni, che non hanno mai vissuto questa giornata di sport, quindi dobbiamo assolutamente sensibilizzare tutti affinché diventi una festa, una partita sentita, sì di agonismo sportivo, ma che rimanga solo lì. Fa piacere che il prefetto oggi ci ha convocato perché inizia un percorso di avvicinamento, una partita importante che ci sarà il primo di ottobre proprio qui a Teramo, ci stiamo organizzando al meglio per far arrivare tutte e due le tifoserie in sicurezza al Bonolis. In questa prima fase del campionato sia Teramo che Giulianova stanno rispettando un po' le attese a punteggio pieno dopo tre giornate? Sì, sono due squadre che sono organizzate tutte e due per vincere il campionato, questo non è un segreto e quindi io sono convinto che sarà anche questa una partita importante, non tanto la prima ma quanto la seconda, perché nella seconda partita al ritorno al Fatini saremo nel club del campionato, sarà il mese di febbraio, arriveranno i mesi più difficili per le squadre, però per me, ripeto, il messaggio che dobbiamo far passare è sì sana rivalità, sì agonismo, ma facciamo sì che tutti quanti possano andare in sicurezza a vedere la partita. Mi fa piacere perché purtroppo di voi ce ne erano circolate tante, è evidente che noi, sarà nostra premura da domani mattina sensibilizzare la società di Giornalcalcio 1924 affinché ci sia una carovana con dei pullman in modo che tutti quanti possano in sicurezza raggiungere il Bonolis evitando una dispersione di auto che naturalmente per l'ordine pubblico diventa complesso controllare tutte, però io sono veramente fiducioso nel senso che bisogna assolutamente lanciare un messaggio distensivo e noi siamo qui per farlo.